pino sei vecchio bestiace eccoci qua incredibile ma vero stasera siamo vestiti sempre uguale di consueto ma d'altronde è venerdì si avvicina lo weekend e quindi sti cazzi ci si lascia andare stasera ragazzi avremmo dovuto vedere la puntata la seconda puntata di ghostfuckers ma come vi ho detto sui social vi invito a iscrivervi ai social voi di tiktok andate su instagram voi di instagram andate su tiktok siate promiscui per l'amor del cielo che fa bene all'anima fatilo perché perché appunto vi dicevo che non sono riuscito ad editarla in tempo purtroppo ragazzi non si dà fretta all'arte bisogna aspettare quindi lo facciamo direttamente lunedì lunedì faremo l'anteprima della seconda puntata di ghostfuckers mi dispiace però accontentatevi di una normalissima horror night insieme dove giocheremo ad unspoken il gioco che che vuol dire tradotto in italiano si dice non si può dire unspoken non si può dire gioco che è fatto con a real engine ma in pixel art un gioco che mi avete consigliato sui social dappertutto e mi avete rotto le balle per questo quindi io ve lo porto e basta sostanzialmente prima ovviamente il tg dino con le consuete news poi vi saluto e poi andiamo avanti ma come state voglio sapere di più di voi dimmi dimmi voi parla una lingua strana quindi se non la smetti di scrivere quella lingua io sono come zeb ma voglio solo l'italiano oddio detta così sembra un po si la carne di lama lessa o al forno ma io ti direi lessa al forno secondo me detto un po la carne al forno un po stopposa nel mio punto di vista in generale un po tutta la tranne la carne umana quella alla fine ci sta sempre ho rifiutato di trombare per vedere cop tv ma ci sta ah no per vedere l'anteprima un po godo un po godo non è che godi delle delle disgrazie altrui però insomma ci può stare ci può stare mai giocato a blairwich no non l'ho mai giocato ma l'ho vissuto sono morta dentro perfetto ci siamo assomiglia a zeb adesso mi ammazzo tranquilla ma proprio mi lancio dal settimo piano dentro un tombino aperto cercando di provando a prenderlo a centrarlo ma non ce la farò perché non ci passerò lascerò dunque le spalle e le braccia e le gambe il bacino contro insomma il bordo del diametro del tombino una sorta scenderò a tubo di me troveranno una sorta di tubo testa busto e culo basta tutto il resto è stato portato via per colpa di zeb ovviamente per colpa di zeb dino dino come stai sto bene sto bene sto bene sto molto bene l'importante che siate bene voi bestiace l'importante che state bene voi e oggi fa caldo fa un caldo porco guardate come guardate come cercate di portarmi al suicidio di continuando a dire assomiglio un sacco a zeb incredibile come sempre al top assolutamente anche se ho visto una top ten a proposito di top fatta dai coi due sul server sulle migliori serie tv e non sono d'accordo con voi proprio per niente serie tv fa inerente il mondo vodirudico ovviamente si schiatta di caldo si cazzo si si dio bono si si siamo passati da 20 come al solito d'altronde quando quando sto cazzo allora io non ce la faccio più adesso prenderò provvedimenti qualsiasi persona che apprezza il caldo verrà radiata portata in un'altra isola all'esterno di questi continenti al di là del confine della terra piatta perché la terra si sa è piatta e lasciata lì lasciata lì tra i ghiacci perenni non me ne frega un cazzo non ce la faccio ragazzi calabria calabria al di là dei confini del mondo non lo so non lo so welcome to the fallout baby viva il gelo beh allora gelo no però una temperatura umana cazzo dai non è possibile siamo passati da 11 gradi a 27 oggi ce n'erano 27 te 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 da me fa caldo ma tiro avanti a taralli e birra ecco questo mi sembra un po esagerato di già adesso è sera però tu lo stai facendo dalle quattro e mezza del pomeriggio e insomma oggi ho sudato ma mi sa che hanno sudato un po tutti allora ragazzi direi di partire col tigidino perché le notizie di oggi ovviamente sconvolgeranno le vostre gole di farlo vibrare i vostri atomi e modificandovi modificandovi e creando una versione migliore di voi siete pronti dunque a evolvervi tra 3 2 1 sigla cla come l'australia non esiste secondo i terrapiattisti e sarà da lì che vengono hanno qualcosa contro l'australia Deadpool il direttore di Deadpool colui che ha creato il film ci dice che è un film isterico e che è stato fatto per la gioia dell'audience non assolutamente per i soldi direi quasi che addirittura sai per 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 avvalorare questa tesi secondo il direttore direi che tutti i ricavati di questo film dovrebbero essere dati in beneficenza a tutte quelle persone che si vestono di rosso e che portano una maschera e che hanno un gusto sessuale particolare direi di fare così direi di fare così perché mi sembra giusto fare così che dite sì io direi di farlo quindi petizione arriviamo a 200 mila firme che sicuramente qualcosa cambieremo del mondo poi dei simpatici youtubers una coppia di youtubers ha deciso di fare una sorta diverso a quello che è il trailer di gta riproponendo delle fotografie di gta 6 si intende delle fotografie che dovrebbero essere appunto il copia e colla di gta 6 del trailer di gta 6 solo con la differenza che lui flexa i muscoli ogni cinque frame guardate che meraviglia guardate potete vederli qua lei ovviamente uguale lui ovviamente uguale poi nella scena successiva lei non è in carcere questa cosa mi è dispiaciuta parecchio perché sinceramente se vuoi fare le cose per bene ha fatti incriminare finisci in galera e ti fai fare le foto dalla tua compagna di cella teoricamente no e dobbiamo fare le cose per purtroppo non è in carcere lei poi nella seconda scena qua c'è questo idrovolante che sta volando giustamente idrovolante qua intanto qualcuno muore per il cringe io non capisco per quale motivo vi cringeate così facilmente questa è passione ragazzi è passione notare come qua si va a riprendere quella che è appunto la la scena madre che vede i volti dei nostri protagonisti che coperti in faccia ci fanno intuire la loro natura criminale criminosa poi abbiamo quest'altra scena dove vedete come tutto uguale notate che non ci sono differenze è incredibile è incredibile non solo qui non sono in california ma nel videogioco il tizio è un vecchio mentre sopra con un perizoma mentre sopra è un idiota che sta annaffiando le piante in slip rosa e calzini e ciabatte bianche ma perché ma perché poi c'è lei che non guarda la strada nel mentre che tiene in mano una quantità di soldi da un dollaro avrà in mano 40 euro 40 dollari da uno però i dollari sono fatti così mentre sotto nel videogioco lei ha delle obbligazioni bancarie ognuna dal valore di un milione probabilmente successivamente c'è questa scena incredibile ripeto non capisco cos'hanno contro la guida sicura queste persone poi abbiamo questa scena che la scena della che proverbiale della camera da letto della trombata dove come potete vedere lei è seduta su di lui quindi la donna che usa l'uomo come sedia diciamo un concetto un pochino che va a riprendere quello che è il movimento femminista di questo periodo e che ovviamente gta e la rock star abbracciano al cento per cento altra scena incredibile c'è questa meravigliosa dj section dove stanno sostanzialmente facendo nulla chi per chi è il dj picchi un dj là fuori sappi che il tuo non è un lavoro te lo dico tranquillamente poi procediamo con quest'altra scena dove loro ovviamente parodizzando questa questa entrata con le armi entra in un negozio ma tenendo in mano due banane e ovviamente con il viso coperto come i personaggi di gta sappiate che dopo questa scena sono stati brutalizzati dalla polizia come giusto che sia è stata fatta giustizia e questi sono finiti in carcere per sei mesi o finalmente una buona notizia finalmente una buona notizia con le banane sì 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 gli hanno tiserati pensa mani in alto gli hanno tiserati sì solo sei mesi ragazzi perché alla fine questi deficienti non potevano far male che solo a se stessi quindi alla fine ma si sai che c'è non dire così ora si avvererà su di te la la furia di dj non me ne frega un cazzo non me ne frega un cazzo poi altra cosa altra cosa cos'è che dovevo dirvi non mi ricordo più ah ci sono di nuovi aggiornamenti su el divers ma non ve ne frega non vi interessa perché già lo sapete perché voi lo giocate bravi si fa così e Todd Howard scopre che ggn ha dato 9 alla sua serie di fallout e felicissimo si piscia addosso davanti ai microfoni e sviene e volete vedere questa scena ve la faccio vedere eccolo qui sono veramente onorato per questo 9 non riesco a trattenermi ecco quella la faccia di uno che non riesce a trattenersi stava per svenire e sostanzialmente poi hanno chiuso il video perché altrimenti eccoci poi vedete si ripete perché un loop sostanzialmente eccoci qua Todd Howard tra l'altro non invecchia per me è il vero è il vero il volt boy è lui credo ma il microfono nuovo sì sì ti piace hai visto l'ho sporcato apposta perché così non notavate differenze però vedo che qualcuno di voi ha un occhio ben ben allenato è il padre di Dean è un ghoul vaffanghoul dicevo io quando giocavo a quel cazzo di gioco bellissimo lo steampack anche io dicevo steampunk invece è lo steampack il pacchetto steam che gioco è ma come che gioco è fallout no non accettiamo gli ignoranti cioè li abbracciamo dicendogli che andrà tutto bene ma non accettiamo gli ignoranti fallout ragazzi cristo santo è uno dei dei gdr più famosi a livello ludico ma è horror beh sì fallout è horror però fallout 3 vai nella zona contaminata nella metropolitana dimmi se non ti caghi sotto appena senti che ti compagnano addosso i ghoul ferali frail che gioco di merda la torsione testicolare non è l'unica cosa che può capitare a un uomo per farlo soffrire ci sono altri metodi uno di questi e sono questi insulti gratuiti capelli sono nuovi sì 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 va bene adesso lo compro non ho letto adesso lo compro solo per andare a vedere quel momento beh ragazzi no ma non c'è per andare a per andare a giocare a giocare quel momento ragazzi videogioco non è vedere passivamente ah tra l'altro poi dovrebbe uscire un nuovo a questa notizia che me l'ho dimenticato dovrebbe uscire un nuovo reboot sui film di scary movie perché perché non non ne sentivamo assolutamente la mancanza detto ciò ragazzi questa era l'ultima notizia a no no fermi questa è ancora più importante ma come ho fatto a dimenticarmi in giappone succede che un uomo di 36 anni viene arrestato dalla polizia giapponese che indagando scopre tramite un mandante di cui non possiamo dire il nome nintendo viene arrestato perché cosa faceva vendeva dei salvataggi fasulli modificati di pokemon di una delle versioni di pokemon arrestato 36 anni perché vendeva dei salvataggi modificati di un gioco non è che vendeva del gioco una copia del gioco taroccata vendeva dei salvataggi modificati di un gioco è stato arrestato 36 anni non è stato arrestato aveva 36 anni ma siccome in giappone funziona così tu vieni arrestato per quanti anni vivi quindi per 36 anni lui rimarrà in galera perché ha venduto delle salvataggi modificati del suo gioco incredibile ragazzi questa è giustizia la pena di morte probabilmente arriverà a breve quando adesso aspettano che i parenti vanno a trovarlo e le ultime parole arriva il prete anche se non so se sono non so se siano cristiani o meno non ne ho idea comunque detto ciò bestia c'è sigla a me non piace manco pikachu vedi tu li ho sempre odiati i pokemon ho sempre avuto questo desiderio di picchiarli infatti poi quando è uscito pall world ero abbastanza felice considerando poi tra l'altro il gioco come la nuova diciamo la vendetta che ho sempre voluto avere contro i pokemon il problema è che power è morto nel giro di due settimane quindi non se non sentiremo più parlare di quel gioco nonostante si siano fatti miliardi di milioni però ormai funziona così in giappone sono cristiani a perfetto che non sono solo cristiani però immagino che abbiano diverse religioni anche a me non mi piacciono finalmente ragazzi pensavo di essere l'unico scionisti attenzione non solo cristiani al cinema sono la minoranza i cristiani a decidetevi ragazzi siete voi gli esperti del giappone si sa sappiamo che tutti quelli che parlano del giappone ci hanno vissuto almeno sette anni ci hanno fatto almeno una settimana in giappone è palese in italia funziona se tu parli del giappone perché si sa se è stato almeno una settimana in giappone lo sappiamo è palese marco toni marco toni è eccezionale quell'uomo mi mette a disagio ogni volta che guardo un video sono buddisti sono politeisti eccoci qua cerca toni circa toni attenzione dino confundus defendo flipando tromba dino ma sei pelato no 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 è un effetto ottico allora io direi ragazzi di iniziare buttiamoci con questo gioco unspoken traduco per voi è in italiano però traduco per voi ti trovi al centro di un incubo inspiegabile non lo traduco c'è scritto in italiano fatti strada attraverso l'orrore faccia faccia con eventi terribili immergiti nello scuro mistero di eventi in cui ti sei trovato partecipe inconsapevolmente ecco così abbiamo anche per i sordomuti un contenuto io direi di partire questo gioco l'han giocato in italia tre non si sa tre voi sapete tenete conto il numero tre non vi dico se erano persone animali e giochiamo vediamo un attimino com'è spero possa piacervi ragazzi altrimenti partiamo con minecraft aspetta che faccio partire anche la live di qua stasera non respiro grazie per la digestione vediamo se parte di qua no ho sbagliato tutto così ok ok la regina aspetta 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 che devo levare andrea figa non si capisce più un cazzo allora facciamo così ragazzi credo che ritornerò alla cornice quadrata perché mi sono rotto i coglioni sinceramente non lo so non lo so mi sa che ritorniamo alla cornice quadrata io sono fatto così sono volubile sono sensibile abbiate pazienza ripartiamo choose language you choose violence inglese o russo facciamo inglese dai dai che lo comprendo un pochino meno così lo imparo new setting credits purtroppo ragazzi il gioco non è in italiano nonostante la traduzione nel su steam è in italiano quindi non le robe le fanno a metà per questo bel paese new game una volta salutavi cazzo è vero fermi 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 chi è che c'è stasera king's lady el wayne alei malex ieren gin tonic luke aru pad incredibile e max christian saturno saturno contro struzzo il truzzo caffè caldo elder elder dark ce l'ho fatta sad song fede selvaggia the only arthur poi abbiamo il leone del bianco no il leo il leo del bianco si gattoniglia wolf girl andrea cop tv ovviamente mugan i'm i'm not an nascida balbereth jamux luna dislessica poi chi altro c'è ragazzi c'è qualcuno di nuovo qualcuno di nuovo qualcuno di nuovo non c'è bo 109 345 abbastanza complesso eli sabri e qualcun altro di nuovo ragazzi l'ultimo degli ultimi colui che stasera perderà una parte del suo corpo non dico quale non dico come ma accadrà accadrà michele la vit tu perderai l'unghia del mignolo destro perché te la taglierai sostanzialmente troppo a fondo con avidità però può accadere ragazzi direi che ci siamo bestiace è un piacere un onore benvenuti la casa del signore che gentilmente occupo con la forza vediamo se parte tutto questo gioco è disegnato per i single e non contiene salvataggi no ma porca quindi c'è una partita sola sostanzialmente it is available to play in the dark with headphones on flickering lights warning ci sono luci che flickerano e fate attenzione ad just the scale anti the logo became barely visible non lo vedo il logo ok così ma è il massimo gamma le male vi ricordate i bei tempi delle delle ciu in gamma io ho le brooklyn mamma mia spettacolari che è sto suono che accade buono siamo sono criminali sono famigerato sono famigeroso auguri a chi fa il compleanno oggi non interessa a nessuno basta vantarsi di queste piccole cose nella vita possiamo andare avanti con la nostra pronto attenzione il nonno questo è il peacemaker del nonno che è occupato evidentemente chi ha proprio se l'alita nel micro madonna l'audio ma che è cos'è quel puntino bianco ecco vedete a real engine no non so chi sia io la sindrome del risveglio dello sconosciuto chi cazzo ha messo chi cazzo ha messo no tassi ah shift control ma basso grazie mille grazie mille per i tasti ah abbiamo anche il menu no non trovo nulla in tasca mi dispiace ma chi è che ha messo la moquette sul muro allora questi ci danno informazioni giusto eh vabbè ma non c'è il videoregistrattore come faccio che è sta roba police have resumed the investigation into the disappearance abbiamo finito? bene così police have resumed the investigation into the disappearance sono spariti tredici bambini cioè capisci tu ti svegli in un posto che non conosci senza memoria e leggi sul giornale che la polizia sta cercando tredici bambini scomparsi e giustamente ti senti un po' colpevole però io ripeto ho trovato una cassetta ma non posso aspetta forse devo fare così cazzo ne so use che cazzo è? è una persona in ginocchio o è un centauro? non sto capendo perfetto ok non è dietro di me quindi vado alla grande la luce ah va mamma mia ma che cazzo di fastidio agli occhi salve madonna è buio o pesto però mi piace la grafica mi verrà mal di testa a fine serata ma tanto voglio dire ormai posso correre ho sentito un suono correndo ho sentito un suono una sorta di riverbero dei miei passi cavalli e gatti horse and pussies madonna wow wow qualcosa bolla in pento ma che succede ma si muovono le cose o sbaglio non posso interagirvi ci cazzarola la domestica doveva passare e poi alla fine è morta darling daniel will be coming to over today can you buy some meat and veggies for dinner and don't forget to buy ice cream for helis thank you dobbiamo fare la spesa ma noi non ma non l'abbiamo fatta evidentemente queste sono ossa di pollo no no tranquilli sono ossa di topo e semi di girasole questa porta non porta un classico no io sento dei suoni ragazzi eh questo è un orologio a forma di gatto io sento dei suoni eeeh e questo? che problema è? sus find the imposter nooo un chiaro rimando al nostro caro e amato gioco denominato chiamato non mi ricordo mai perché non ho mai giocato among us credo sembra un bel horror si il problema è capire che cosa debba fare cosa debba fare qui tra l'altro abbiamo un ventilatore che un pezzo di storia e ragazzi io direi che possiamo cambiare gioco ma non posso fare nulla? magari dentro l'immondizia magari qua sopra aspetta no non ci arrivo sono troppo basso maledizione questa discriminazione nei videogiochi deve finire ragazzi il non è induzione il fornello questo non va bene ma la sedia era per terra la sedia era per terra ragazzi ma sta succedendo qualcosa alle mie spalle o sbaglio? sono il re del mondo ah ci sono delle chiavi qua cazzo le aveva viste use è la small key ok forse per questa use non va e allora deve essere per forza l'ultima stanza sto andando un po' troppo a cazzo duro ragazzi oh ah no 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 questa è chiusa perfetto quindi la bastava giustamente cliccare sul pomello della porta salve minchia Gesù una luce? qua non vedo perfetto la porta qui ovviamente è chiusa l'ordine non fa parte di casa salve permetti con calma eh e là ma io sto sentendo dei suoni perché sto sentendo dei suoni spavento chi è stato? che si è accesa? ah questa luce qui mio dio ok un bagno con i vetri frantumati persino lo spec persino il riflesso mi ripudia ok 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 calmi è saltata la luce può capitare può capitare che una lampadina esploda dopo aver visto un orribile pezzo di design d'arredo può capitare non vedo nulla mi serve mi serve mi serve una luce ah non scoppiare non scoppiare questa è la stanza del pargolo perfetto è un pazzo è un pazzo in culo buono era un adoratore di satana eccolo qui ragazzi Shrila la divinità babilonese della seduzione è un colpevole comunque si vede è una bambina? ah queste cose le fatine che vendono in tutte le fiere medievali vendono ste cazzo di fate orribilanti non vedo nulla da raccogliere non c'è non ci sono oggetti interagibili madonna piano eh piano eh con calma eh piano ok eh è chiuso perfetto sarà una luce da qualche parte posso accendere la luce qui? non vedo oh eh che cazzo oh là allora evidentemente deve esserci qualcosa qua che ci sfugge vediamo se posso aprire no questo neanche ditemi se avete visto qualcosa ragazzi io ce l'ho come bomboniere della comunione usa la chiave dove la uso la chiave perdonami forse qua potrebbe avere senso non va non va ragazzi ma perché ci sono sedi a terra ovunque? è per dare quel senso di disordine e caos non è che magari qua dentro c'è qualcosa? no e boh proviamo a scendere allora il gioco mi sì c'è qualcuno? c'è un telefono facciamo un numero è sconnesso maledizione ce l'hanno staccato bene ci hanno tolto anche l'unica possibilità che avevamo di avere un contatto col mondo esterno palesemente noi tra l'altro non centriamo nulla con la famiglia di questa casa per quale motivo per quale sacrosanto motivo dovresti spegnere la luce per quale motivo ok e boh ma vedi che io sento un suono continuo a sentire un suono ma che? sono le scale? sono le scale cosa c'è? c'è Harry Potter sotto le scale? l'ho sentito? sono pazzo io? sono le scale buono e ragazzi non c'è niente aspetta forse qua cubo di Rubik? no questi sacchiotti sembrano colpevoli non è che devo ma scusami eh perché c'è questo simbolo ma dovrò fare qualcosa eeeh usa lo so che ha poco senso ragazzi tu tu che stai fissando il simbolo non capisco dietro questo quadro un gazzo ma non posso fare niente beh è gioco dell'anno ragazzi eh Dumbo Dumbo l'ho sempre odiato Dumbo sempre odiato detestato Dumbo Dumbo soffitto c'è eeeh sulla soffitta non vedo niente allora lì c'è una porta ma credo che siano quelle porte di plastica finte che adornano le case americane eccoci qua chiudiamo sta cazzo di porta del bagno che non mi piace io credo che magari in bagno ci sia qualcosa ma è saltata la luce quindi se non trovo una torcia che bella questa Unreal Engine 2 beh mi sembra un po' eccessivo allora vediamo se la magari effettivamente non ho controllato se la chiave apre questa porta o forse no ma deve esserci un sottoscala da qualche parte qua c'è qualcosa da raccogliere no non c'è da interagire con nulla allora vediamo se non ho altre VHS perfetto perfetto e avevamo un video di qualcuno che sembrava rinchiuso in un seminterrato mentre veniva filmato e preso in giro c'è proprio il come si chiama il rapitore lo prendeva in giro alla Simpson proprio classica puntandolo così una tortura che non consiglio a nessuno ragazzi ma manco al mio nemico spegni le luci no perché non sono scemo non c'è il classico scantinato dicono di spegnere le luci nella camera della figlia perché allora sto per odiarvi io me lo sento che problemi avete da io minchia ragazzi però veramente un placca mi ricopro di stagnola e vi placo veramente vi placo così non solo vi colpisco placcandovi ma mi sfregio la carne anche mentre che vi sto facendo il placcaggio ovviamente in modo goliardico con affetto poi vi soffoco limonandovi dino che tempismo ma mica l'ho scelto io mica l'ho scelto io il tempismo qui cosa devo fare adesso adesso che abbiamo stemperato perché sta porta non porta non va nulla non va l'unico è il bagno eh che è stato non vedo un cazzo non vedo uso lo scopettone d'eccesso c'è dello chantecler dello chantecler per terra magari potrebbe essere la soluzione ragazzi io penso che l'unica cosa che io debba fare è trovare qualcosa da fare qua dentro ma non c'è niente da fare in sta stanza ma è possibile che io non riesca mai a capire Dino puoi vedere nel bagno so che non si vede nulla ma prova a tastare ho già provato ma la chiave e che cazzo ne so Dino l'armadio dice che apre questa chiave qui no non va ragazzi non c'è non c'è interazione c'è sto simbolo mi fa pensare che è qua che io debba proseguire però non posso farci nulla non è che devo scriverci un qualcosa ma che cazzo ne so magari devo con un pennarello inizio a giocare a Trisco il diavolo prova a vedere il frigorifero il frigo e andiamo al frigo e il frigo non si apre ci manca qualcosa ci manca qualcosa ragazzi ci manca un oggetto che non abbiamo trovato però io ho cercato più o meno dappertutto non ci sono forse queste cose si possono aprire no tasto di interazione è E mentre continuano a morire dei pixel non so se state notando la chiave sulla porta quale delle due porte perché c'è la porta del retro che non va che drop no 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 che drop ci appara su la chiave della porta sul retro non va come puoi vedere e non va neanche la chiave di là e quindi io non so a che cazzo devo fare use non va porta d'ingresso ma che spavento pensavo ci fosse una roba con molteplici zampe attaccate al soffitto detto anche il lampadario sopra hai provato la chiave si 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 fino alla porta al piano superiore in fondo al corridoio ma l'ho fatto ma figa l'ho fatto ma ragazzi mica sono tre porte ma cazzo ma non avete visto la la e stiamo giocando insieme la chiave sopra no ma chiedimelo ancora per favore non ho intuito lavandino nel bagno che cosa faccio mi fico due dita in gola e perdo qualche chilo cosa dovrei fare nel lavandino del bagno con una chiave che ci faccio è finito il gioco si è finito il gioco basta questo non è un horror è una rage rage game che cazzo devo fare prova a toccare i quadri ma perché sono un pazzo cosa devo bello questo però è storto magari nasconde qualcosa aspetta non vedo fessure non sento spifferi d'aria questo suono mi intorpidisce ogni volta al buco del culo qua ah qui abbiamo un cane al posto come orologio abbiamo una chiave che non porta nulla ma non ha senso sto gioco mi sono spaventato la luce del bagno è dentro al bagno ma che cazzo dite che vuol dire la luce del bagno è dentro al bagno ci avete provato nei cassetti delle mensole nei cassetti delle mensole come i cassetti delle mensole meraviglia guarda guarda nelle veneziane della finestra della porta dino sotto è rotto e lo so che sono tutto rotto sono andato dall'andrologo ma poi quelle sono cose mie comunque dino su una mensola c'è una videocassetta bugiardi dino conta le sedie e componi il numero del telefono perché no qua l'ho già presa la videocassetta ragazzi l'avevo già presa era lì e l'ho messa già dentro al che spavento e l'avevo già messa dentro al videoregistratore magari aspetta però dietro il divano non l'abbiamo visto e no ragazzi no 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 ha scricchiolato la plastica delle cuffie e pensavo che qualcuno mi stesse ruttando dietro in modo spaventoso ovviamente non accendi tutte le luci quella vicina alle scale ah effettivamente tutto cambia è tutto diverso ora con le luci in più magari possiamo spavento possiamo notare qualcosa no qui non ragazzi non che vi devo dire non c'è soluzione io ho una chiave che non porta nulla porte che non chiavano chiama 911 dirò la porta su tocca la maniglia e poi usa la chiave sì nel mentre faccio una giravolta sputo per terra e prego gli dei ma che cosa cazzo fatto ma che cazzo vuol dire adesso mi ingrifo ma che senso ha ma se scrivo usa la chiave sulla porta in automatico me la devi aprire che cazzo devo stare a girare la chiave mentre uso la ma come cazzo si fa come cazzo si fa eh ma certo ma è chiaro ma ovviamente sono io che non ci arrivo perché ovviamente era una cosa abbastanza banale no ma come cazzo si fa come si fa a congegnare una minchiata del genere chi è lo sviluppatore idiota che ha deciso che questa è una meccanica intelligente se io faccio usa chiave sulla porta è ovvio che intendo che mi debba aprire la porta no devo abbassare la cazzo di maniglia e infilare la chiave col menu aprendo schiacciando ma che senso ha dov'è ma non me ne frega vaffanculo te l'audio ok queste dovevano essere le care persone che si vedevano nel video perfetto ragazzi abbiamo ereditato una casa involontariamente aspetta che accendo la luce qui una pistola quella reload R2 check the bullet quanti ne ho 5 V per nascondere la pistola sono agenti di polizia si ovviamente oh 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 ehi ehi che cazzo voglio una luce datemi una luce ma che vuol dire sta roba ma che è chiudi ok taci 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 la situazione è già difficile così ma cos'è ma che è una festa in maschera perché non posso più vedere i proiettili che ho quanti ne ho io non lo so quanti ne ho ok ok shh tti vabbè giustamente questa non va non funziona un cazzo perché non funziona un cazzo ok 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 credo di essere senza volerlo entrato a far parte di qualche tipo di setta le cose non sono andate come previsto non vedo un H non vedo oh la bene allora con calma adesso ci chiudiamo qua dentro perfetto e ragioniamo sul da farsi buono allora immagino che quelle mostruosità non abbiano i pollici opponibili né l'intelligenza artificiale per poter aprire una porta magari ci passano attraverso ora io posso vedere quanti proiettili mi sono rimasti ne ho esplosi due me ne dovrebbero essere rimasti tre sono fottuto sostanzialmente però l'ho fatto con una cadenza e con una precisione direi incomiabili ora il mio problema è che dovrò sentire sto cazzo di messaggio in continuazione posso riaccendere la luce della camera da letto ottimo giusto per indagare su che diavolo sia questo perché cosa sei tu non lo sapremo mai ovviamente ragazzi si tratta di pixel e di finzione non abbiate paura ecco abbiamo appena fatto casino allora angolo dell'invincibilità ah io non mi muovo dovete venire voi da me siete voi i ladri che cazzo permesso vai all'angolo corri all'angolo girati mi serve una luce mi serve una luce non vedo un cazzo senza luce c'era la luce dove era la luce di qua c'era una luce qua sul muro non c'era una luce sul muro mi ricordo ci fosse un interruttore qui che cazzo mi ha fatto che mi sta facendo aspetta che è successo che è successo che è successo che infarto ma non l'ho sparato io ma si è sparato da solo ma che è successo ragazzi ma non ho mica capito io comunque il nero sfinisce avete visto che roba e questo è proprio sfinito ma che schifo non ho neanche le calze ci sono proprio le dita così sono dipinti questi basta eh basta basta eh basta ah un twist degli eventi ma che cazzo corridoio gioco horror corridoio no 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 sto scherzando sto scherzando sto scherzando sto scherzando sto scherzando la porta vittor di me è chiusa no 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 ah ma che cazzo c'erano più colpi per sta stronzata ma scusa no 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 ormai è troppo tardi direi chi sei tu i'm toby sir plushy toby chi sono io dove mi trovo sei qui The closet to where you are from You don't How do you remember yourself Eh What's going on here Che sta succedendo Cosa c'è dietro quella porta con un occhio Ma non ho neanche visto l'occhio dietro la porta Beh non ce l'hanno neanche buttato l'occhio effettivamente Vabbè cosa sta succedendo qui Tutto sta andando come dovrebbe Eventi familiari What's behind the door Cosa c'è dietro la porta Toby non lo sa signore Qualcosa di spaventoso Se mi aggredisci Toby Non ti sparerò Ma ti colperò molteplici volte con il calcio dell'arma Finchè ti cambi i connotati Non t'avvicinare Ti rifaccio anche l'altro occhio eh Ok dobbiamo incontrarci da qualche parte con questo Carica l'arma A posto Che c'è scritto qua Daniel Brennel Daniel Daniel Brennel Deve essere lo sviluppatore Abbiamo un alto ego Ah quello è l'occhio sulla porta Questa porta è chiusa Però abbiamo una chiave No Mi sa che ho sprecato tre proiettili ragazzi Daniel e Susan Ok abbiamo degli indizi Quelle mani Quelle mani Quelle dannate mani Ah 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 Sto per svenire ragazzi Se siete sensibili Perché l'ho fatto Ok Ma che sta succedendo E dove dovrei andare Andiamo al secondo Ho sprecato un proiettile Ma in realtà mi sa che ne ho sprecati tre dei proiettili Credo che buttando via l'altro caricatore ho buttato via gli altri due Ora non hai colpi Sì che ce li ho Tranquilli Che attacco piletti con sta luce C'era scritto nei Nella No ragazzi però Arrivederci Ehi Un albero di natale Dove cazzo ci troviamo Ci sono rimasti due colpi ragazzi Eh Chi va là Mostratevi È una pessima idea C'è una freccia Ok 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 F di torcia Oh Mi sento sicuro Allora controlliamo che non ci sia qualcosa qua Magari ci sono dei caricatori Che cazzo ne so Deve esserci qualcosa da qualche parte Non vedo nulla Non vedo Io di là non vado Eh Ragazzi scegliete voi Vado verso la freccia Vado verso la porta oscura Vado verso la Io non credo di poter passare Tra le altre cose Non lo farò mai più Non lo farò mai più Mi si è gelato il sangue Scegliete Dritto Destra o sinistra Scrivete Dritto Destra o sinistra Dritto Destra o sinistra Andrea puoi far partire una votazione a schermo Funzionano oggi Per favore Per favore Serve un consiglio Votate Votate Vediamo se partono le votazioni Ragazzi Aspettate a scrivere Aspettate che fa partire la votazione Andrea Poi votate Un attimo Un attimo Un attimo Voi di TikTok Che cazzo scrivete C'è scritto che non leggo la chat E tu scrivi Ok Uno Due Tre Vai Votate Uno per sinistra Due per destra Tre di dritto Vai 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 Veloce Votate Votate Destra E' sempre a destra Si punta sempre a destra Attenzione Percentuale dice sì Vabbè 30 secondi Destra Dai 41% dice destra Vado E' un altro bivio E' un altro bivio Sento un telefono Non mi piace per un cazzo sto gioco E' pieno di corridoi E' pieno di corridoi Che diavolo era Che diavolo era Era enorme Deforme L'avete visto sono pazzo Io che cos'era Ok non ci sono oggetti qui Non c'è niente da raccogliere Madonna No 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 Allora qualcosa ci sta Ah mio dio Pensavo fosse Qualcuno che si stesse affacciando Invece no Non mi piace questo sorriso Non mi piace questo avvenente sorriso Minchia minchia C'ho i brividi Leva la porta E però se mi Ma permesso Ma Cristo Gesù Che cos'è quella Ho vinto Manteniamo il controllo Manteniamo il controllo Y976 Ricordatevi Y976 Che cazzo ho trovato Cos'è sta roba qua Sembra una statua senza testa E beh te pareva Che poteva esserci qualcosa Y976 È un 4 4976 Scusatemi Sento tanto il telefono che suona Ok Vai nell'oscurità Sono un folle figlio di putt' Oh Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Oh ma che meraviglia Una parete Una porta murata Questo E basta E basta Ok 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 No Tu ti chiudi Ecco il cazzo proprio Ok Con calma Adesso facciamo tutto Prendi la chiave Ok La porta è sempre chiusa Leggi Leggi che c'è scritto Ora aprirò la porta E qualcosa mi sorriderà in faccia Talmente forte che io Ma siamo cretini Ok Tieni accesa la luce Abbiamo trovato Ancora zero caricatori Perfetto Tre colpi Zero caricatori Sapete cosa mi ricorda questo gioco Un sacco Cry of Fear Veramente mi ricordo Un botto Cry of Fear Ora adesso Stiamo per svenire Stiamo per avere un jumpscare Ora io ovviamente Non avrò paura Reduce da mille battaglie Sono pronto a tutto ormai Conosco gli horror Come il palo della mia mano Quindi sono perfettamente pronto Capace Caparbio No Lo sapevo Ok Ora credo Credo che dobbiamo seguire Il suono di quel maledetto telefono Maledeo Qua ci siamo già stati Il mostro non si mostra Questa porta non va Tutto nella norma Telefono Ma questa porta non porta E fin qua Direi che ci siamo Ora Andiamo da questa parte Va Ora Cristo Santa C'è scritto che questo gioco Non salva Non ci sono salvataggi È una pessima È una pessima idea Cristo Dio Che brutta cosa Che sta accadendo qua È chiuso Adesso mi giro È lì Gira di piano Gira di piano Gira di piano Ok 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 Ma scusatemi Ma scusatemi Ho sprecato un altro proiettile È uno stallo alla messicana A parte il fatto Che hai due braccia Sullo stesso lato Cosa dobbiamo Qual è Come dovremo Eh ho capito Ma scusami Vabbè Oddio Cos'era quel passo Vabbè lui Sarà lui Che cazzo vuoi che sia No Ma basta Con sti fischi di merda È già il terzo gioco Horror dove Continuiamo a sentire Questo Deve essere una moda Tra i giovani Un nuovo tipo Di comunicazione Quello è lupen Quello è palesemente lupen Police officer Is brutally killed And decapitated Police investigation Ah no Decapitato E ucciso un poliziotto Bene All'ordine del giorno Direi come roba Non c'è qualche cosa Che posso trovare qui Sono fatto di cartone Ora di là Ci siamo già stati Ok Attenzione È questa La porta Dell'inferno Ok Ok Qui è chiuso Mi piace che le porte Rimangano chiuse Che cosa ho appena detto Che curioso Va all'inferno Ragazzi Io vi sparo In faccia Che è stato Che cosa ha riso Un ratto Lo sanno fare adesso Questa è la Disney Che va ad umanizzare Ogni sorta di animale Help Sto sentendo Respirare Ridere Che cazzo Allora Non so se abbiamo Una barra della vita Sinceramente Non ne ho idea Se si sfonda la porta Sono fottuto Ehi 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 È diventato Wreck Mi serve una crowbar Per aprire queste assi di legno Torniamo giù Vabbè ma non posso andare Da nessuna parte Quindi l'unica è andare In quel corridoio No quel corridoio Scuro è questo E dove cazzo dovrei andare Scusami Me ne torno a casa È fatta È fatta Ritorno al mio caldo appartamento Ma qualcosa Lo stava seguendo La chiave Ah già ho una chiave È vero È vero Che pirla Me ne ero completamente dimenticato Allora la chiave Oddio Ma la chiave la devo usare In mille altre port Di qua no Di qua Bene Immagino Devo andare alla porta Help Magari apre questa porta qui Allora dobbiamo fare Quella stronzata Di fare così Schiacciare tab E poi premere questo E fare usa Non va Ah ma che cazzo Aspetta Come faccio ragazzi Dove c'è la freccia Dino Scendi Ragazzi Non notate un piccolo impedimento Davanti a noi Ah dove c'è la freccia Devo usare la chiave Dici Beh sai com'è C'è una freccia un po' dappertutto La porta con il telefono Ma questa porta qua la posso Magari la posso già aprire Non so se No La porta con il telefono Quindi devo andare nell'altro corridoio Perfetto Io qua ci rimango Minchia ma sto suono Però deve smettere Deve finire Allora Con calma eh Questa era la porta Che non si apriva Ma Grazie Non sta andando ragazzi Non usa Non sta andando C'era un'altra porta Con Qui E' già aperta L'ho aperta io Qui ci siamo Già stati C'era la statuetta Quest'altra porta qui Proviamo a vedere Non sembra funzionare Ma a sto punto Non sto capendo Se sono io Che non so aprire le porte O se è la porta sbagliata Rimane da fare questa E' una pessima idea E' una pessima Pessima idea Non sta andando Rusty non significa rugginito Sì Eh capì Che vuol dire Una chiave rugginita Di una porta Non ti ho scritto La porta col telefono che suona Allora aspetta che cerco di seguire Il suono del telefono E non Di qua Però mi sembra molto lontano Ok di qua In questo muro E ragazzi Deve essere questa la porta Però non riesco ad aprirla Non si apre Non funziona Non so che cazzo dirvi Dino non rimane tanto tempo Spingi Non tirare Prova 4976 In ascensore Eh potrebbe essere un'idea Qualcosa lo afferrò E lo trascinò 4976 4976 Oh Ottimo 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 Credo abbia funzionato Perfetto Non so se stiamo salendo Se stiamo scendendo Non ne ho idea Ok Oh Antimo Non so se stiamo salendo and I hope you are having a good experience. This is my very first game and the fact that you are playing it is the best motivation going forward, thank you. No, thanks to you, thanks to you. Grazie, sviluppatore, grazie mille. Io non so se il problema sia stato l'allattamento da piccolo, la mancanza dei genitori, non lo so quale cazzo sia, però siamo arrivati qua, alla fine ci siamo. Ora, come torno indietro, sviluppatore? Già finito, sì sì. Devo ritornare al secondo piano? No, non lo so. Era solo un easter egg, sì. Peccato perché è stata comunque una genialata, effettivamente. L'unico posto da infiliare i numeri era quello della televisione, cioè dell'ascensore. Era un easter egg, sì, era un easter egg, un uovo di Pasqua. Bene. Ora, non avrò mica dovuto ricominciare, non devo mica ricominciare tutto da capo, vero? Perfetto, ora, che, dove devo, eh? Prova a rompere la maniglia con la statua. Ma non penso funzioni così, non è che posso fare un po' quel cazzo che mi pare. Aspetta però, perché io ho trovato una chiave qua. C'era questa porta. Ah, siamo dall'altra parte di... Ok, 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 con calma, con calma. Chiudo la porta, ragazzi, per assicurarmi che non ci possa essere una via di scampo per i miei nemici. Vi... vi... vi accarezzo a pugni chiusi. Cos'è quella? Cos'è quella? Ok, 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 è un bidone, è un bidone. Sto per svenire. È tutto rosso, è tutto rosso. Allora, mantenete la lingua lontano, non serrate la macella, tenete la lingua chiusa, eh? Eh, che vuol dire? Non lo so. Ok, 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 ok. Salve, salve, salve. Eh, non mi piace, caricatori, pistoli... Ci sono caricatori, ci sono chiavi, c'è di tutto... No, 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 no! Prendi quello che devi prendere, levati dal cazzo. Non bussare! No! No! Ehi! Oddio! L'ansia mi uccide! Eh, vieni fuori! Cristo santo! Ok. Chi? Chi? De chi? È una pessima idea, è una pessima, pessima idea. Ma devo proseguire per di là? Quanti proiettili ho? Non vedo! La luce! Ok, ok, ok. Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Ehi, 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 ehi! Oddio! Cosa ho ucciso? Cosa ho ucciso? Sono fatti! No! Non vedo quanti proiettili ho! Non vedo un ca...! Ok, ho due colpi, ho due colpi! Che cazzo è quello? Che cazzo succede in sto gioco? Cosa ho trovato? Un'altra statua di un cane Mayflower School Thanks Caring Church For the Organization of Children's Summer Camp Ah ok ho capito Allora aspetta un attimo però Questo è uno dei bambini che si è disperso? Perduto? Ah Peter Pan? Peter Patel? Non mi gusta Ci sono dei mattoni penso possano essere Quindi io praticamente ho appena ammazzato uno dei Ma che cazzo fai? Ragazzi ha avuto un approccio Si stava avvicinando avete visto? Ma io sono come le mosche Non che ronzo attorno alla merda Ma nel senso che ho una visione periferica Di 360 Dio 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 Stavo andando a gambero per evitare una qualsiasi sorpresa alle spalle Invece me la son beccata dietro Ok Cos'è? Che serve? Fusibili? E basta E basta Non so come Come cazzo è qui Ok 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 Sono leggermente teso Leggermente teso He's Eh? Che Calling Ti sta chiamando Ok Ma muori per favore Ah Sono frutto della mia fantasia Perfetto Ho sprecato un caricatore per niente Grazie gioco Ma siamo tornati qua Ma allora Ma allora ragazzi Ma siamo tornati qua Ma mi sta chiamando o chi? Scusa Ehi là Non mi piace sto gioco Mi sta chiamando Ma chi? Eh Per un attimo Avevo pensato di aver visto Una silhouette nascosta In una di queste Dietro di queste Eh Come si chiama? Colonne La stanza con il telefono Ah giusto Mi sta chiamando in quel senso Sì 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 Giustamente Bravi bravi Mi ero completamente dimenticato Della stanza col telefono Fai tu Però Non credo sia questa La stanza col telefono Sto andando troppo spesso Spavaldo Credo che sia quella La stanza col telefono Usiamo dunque La chiave che abbiamo trovato Tanto lì c'è un altro pixel morto Lo vedete quel puntino bianco? Mi è nuova Quella roba Allora Con estrema calma Che cazzarola accade? Oh Tutto a posto? Non guardate Ragazzi Che succede? Sì però Adesso Io posso capire tutto Ma Cristo Va bene che Mi hai messo una piccola avvertenza Attenzioni Luci che flickerano Però qui C'è Questo è proprio Pericolo epilessia Tranquilli ragazzi È solo finzione Cos'è? Portal? Chi è quella figura Allo specchio? Papà? Ok Non mi interessa Risponderò quando sarò pronto a rispondere Ben trovato l'elefantino La statua del leone La statua senza testa Una Meravigliosa Cassetta E Pronto? Fratello Ho bisogno del tuo aiuto Questo figlio di puttana Ha preso Lucy Devi venire qui Adesso Non ho idea di chi sia Questo figlio di puttana Chi sia Lucy E chi sia adesso Ora lui dietro di me No Non ho più colpi Nella pistola Quindi Direi di ricaricare E abbiamo però Una videocassetta Poliziotti Sono armato Sono armato È pericoloso Ehi Ti ho nel mirino Non ci provare Non muoverti È sparito Ha avuto chiaramente paura di me Ma cos'è quel puntino bianco di merda? Cosa sono sti puntini bianchi qua? È rimasto accesso È buggato un tasto Si vede un tasto attraverso le pareti Vabbè sti cazzi Non sprecare Non spreco niente Tranquilli Vabbè che un colpo In realtà Sparato Non è mai sprecato Nel senso Quindi andare di qua Grazie per le indicazioni Adesso qualcosa ci assale No No Serrate i denti Stringete Che spavento Che vuoi? E che cazzo vuol dire? Mi ha indicato il muro Help Ma da quando siamo arrivati? Ho una chiave? Sì Adesso magicamente le chiavi funzionano Ma che cazzo? Bene Allora Abbiamo quattro item da recuperare Il primo ha le ali Il secondo morde Il terzo ha le zanne E il quarto ha la testa Quindi immagino che qua Io debba mettere la statua senza testa Qua debbo mettere la statua con le ali Non ce l'ho L'elefante Barrisce Ha le zanne E qua Ok E il leone Il leone Quelle cazzo sarà? Sarà questo Quindi ci manca una roba Giusto? Bene Little Alice Is still not being found After the horrific attack Of the Connors family Quindi praticamente La piccola Alice Non è ancora stata trovata Susan Connors Che dovrebbe immagino Essere la madre E suo marito Sono stati brutalmente uccisi Vabbè ma è proprio Una storia felice insomma La polizia dice che gli attacchi Sono stati fatti All'interno della casa Ma non è la minima idea Dell'identità del sospetto Comunque mi ricorda Veramente tanto Cry of Fear Siamo davanti A una piccola perla Dell'horror Peccato che faccia schifo La storia Quello cos'è? Sono calzini? Ok Dobbiamo trovare L'ultimo pezzo ragazzi Ma è la casa Dove ti trovavi prima? Sì sì No ma è palese Che sia stato io Cioè sono stato io Non c'è molto da fare Lì intanto Vedo che aumentano Con piacere I pixel morti Ce l'ho state notando L'aquila sono le ali Ma avevo un'aquila Scusami È un corpo Un coso Dove l'hai vista L'aquila L'aquila E le ali Dino Santo e Dio Ma che stai dicendo? Dove c'è Dov'è che ho la Dove avrei l'aquila Io nell'inventario ragazzi? Ma che stai dicendo? Ma sì Ha le allucinazioni Forte Perché non ho mai preso Nessun'aquila io Nei pantaloni Nei pantaloni L'aquila Ma dove l'ho presa L'aquila ragazzi? Ma non l'ho mai presa L'aquila Penso qualcuno Spoiler Eh mi sa di sì Le luci di prima Hanno fatto effetto Cercala Eh ho capito Ok Quello Quello Ok Dovevo farlo Ma io che ne so Che è un'aquila Che devo trovare Ma ha scritto Aquila L'aquila nell'inventario Eeeh Con scritto Dino Santo e Dio Non solo mi sento Mortificato Perché non ho capito Magari ho effettivamente Dimenticato qualcosa Ma poi scopro Di aver ragione Come al solito E quindi mi ringalluzzisco Capito? Qua non Io non ho trovato nulla Ragazzi La famosa Aquila albanese Sì 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 La nostra bandiera Allora qua c'è Sta cazzo di porta Che non si può aprire O sparo La maniglia La scalzo via Con Con Non lo so Trovo un cacciavite Qualcosa Queste cose Non Sono porte finte Non servono a nulla Qua ci siamo già stati E niente ragazzi Dobbiamo Usciamo di nuovo E cerchiamo sta dannata Aquila A quanto pare Serve trovare un'aquila Nell'ultima zona Che è sbloccato Forse Eeeh Probabile L'ultima zona Che ho sbloccato Dovrebbe essere Questa di qua No Non mi ricordo più Minchia non mi piace Sto posto Non mi piace Per un cazzo Sto posto Ma che diavolo è Ma cosa diavolo Ho fatto Ok qui Effettivamente Non l'abbiamo Controllato meglio Perché era Quella zona Veramente inquietante Che Gradirei Non controllare Oh eccola qui Bonnie Che tra l'altro Non è un'aquila Ma è un angelo Angel statue Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Ok per la regola degli oro Abbiamo 5 minuti di pace 5 minuti di pace 5 minuti di pace Quindi adesso io Con tutta la calma del mondo Posso addentrarmi Verso l'ignoto Consapevole del fatto Che nulla mi accadrà Eccoci qua Eeeh Oddio Quel suono Quel maledetto suono Perfetto Chiudi la porta Mi rimangono 4 colpi 4 o 3 colpi 4 Perfetto Qua ci mettiamo La nostra bella statuina A posto E ho vinto E ho vinto Oddio Mi sa che è peggio di prima Era meglio dove stavo prima No Si è chiusa la porta Dietro di me No cristo Vabbè è un corridoio Qualcosa mi deve venire In faccia per forza O dietro di me No ok Dietro di me Non c'è neanche più la porta Perfetto 4 colpi Basteranno Adesso un alligatore Sfonda la porta E soffiando Morirà perché Gli sparerò diversi colpi Devo ricaricare Devo ricaricare L'importante è preservare Le munizioni Ora Scusatemi Come dovrebbe funzionare Il gioco È dietro di me Come dovrebbe funzionare Il gioco Cioè nel senso Non sto ben capendo Non ho dovuto ricaricare Ho sparato tutti i colpi Che avevo Mi mancano 2-3 colpi Che cazzo succede Che sono sti tempi Nostalgici Oh ma siamo deficienti Time travel Mi ha sbloccato L'obiettivo Chi è che apre le porte Al contrario Ok Siamo indietro Nel tempo Quelli che vedete Questi flash che vedete Sono le luci Di Dei cari ragazzi Che la notte Vanno a consegnare Alle 6 del mattino I giornali In bicicletta Si intende Quella è una testa Cosa sei di grazia Ah È una mensola Con qualcosa Che penzola Oh Bene Bene Allora A sto punto Dato che ci sono le luci Usiamole No Anche se tanto Ho già capito Spavento Tanto ho già capito Che Questo telefono Non telefono Non telefono Buono Buono Molto buono Oddio Eccoci qua Questo è lo specchio rotto Di prima Oh Cristo Ragazzi Ho un flash Incredibile Perché effettivamente Mia nonna Aveva Aveva questa mobiglia Qua Uguale identica Qua non c'è Non c'è scritto niente E uno specchio rotto Madonna ma che ansia Sto gioco Però sta casa Fa cagare È un taglio particolare Un taglio particolare Allora qui A favore di camera Grazie Allora intanto Prendi la chiave Ok Però l'evento Triguelabile potrebbe essere Quello di leggere il giornale Cult Dove a quanto pare facevano cose indicibili o ripilanti Eh, no, 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 no È la Madonna Allora? Oh È una pessima idea Ma è la stessa stanza di prima Ma che sta succedendo? Ma che cazzo sta succedendo? È diventato PT Ok, il telefono non va Cioè, non è positiva sta roba La porta non va Quindi ogni volta io devo scoprire Non vedo il mirino Non vedo un cazzo Quella è la mia torcia? Ok, credo di aver sparato a un'ombra Ma stanno scrivendo nomi Stanno narrando storie Di cui francamente io non mi sento né coinvolto Né ecco, insomma Responsabile Buono No Però stavolta questa Che dici? Che brutte chiavi comunque Ah no? Incredibile Allora è questa Sempre questo E sempre questo Mi son ferito Ma ho Ah, ma ho la vita Vedete che c'è questo schizzo di sangue qui? Credo che sia la vita Ho perso un po' di colpi Ehi Ma ti vedo, eh Ma ti vedo che mi sbirci Io sto sprecando tutti i colpi che ho Perché penso che queste ombre qua Debbero Queste ombre io debba spararli Invece a quanto pare non è così Oh, Cristo Che telefono è questo? Ma che sta succedendo? Era il telefono giusto? Benissimo Va tutto bene Spegniti, spegniti È tutto ok È tutto ok Allora Non sembra neanche l'appartamento Dove eravamo prima Oddio Forse lo è ma girato No, perché non era un appartamento Era una villa Cioè, insomma Mi è venuto un leggero Mamma mia Per ogni volta TikTok di merda Scusate un attimo Porca puttana Ma che Abbiamo rilevato una mancanza di attività Sì, ma quella celebrale Cazzo che avete voi Ma come fai a farmi ste cose Mentre gioco a sti giochi Tio, buono ogni volta Dov'è? Muovi Girati Fai Allora Abbiamo un'altra chiave Dovrebbe Dovrebbe teoricamente Prire sempre la stessa porta Oh yes Vado Corro Non mi interessa più Qui non trovo nulla Procedo La figura oscura non vi è Né il libro Ma il telefono non suona? Bene Perfetto Adesso jumpscare Vai No Ora jumpscare Adesso che non ho sparo Adesso che non ho sparo Guarda Allora Non sto facendo bene qualcosa Credo Ok, la televisione però Adesso è spenta Ma se spengo la luce No Sono confuso Sono molto confuso Corri, 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 corri Buono Sul tavolo non vi sono più Chiavi né niente Neanche da leggere Perfetto Siamo bloccati qua Per sempre Immagino che stavolta Le porte si Ah, stavolta si apre senza Ah, è l'ultimo gi Madonna Madonna È l'ultimo giro Ah Videocassetta E chiavi Ora mi giro E lui è dietro di me Perciò mi metto nell'angolo Dell'invincibilità Mi giro lentamente Prendo fiato E guarda un po' Incredibile Non c'è niente Nessuno Perfetto Perfetto Dobbiamo vedere Questa bella cassetta E guardiamo Questa bella cassetta Movie bluff Movie buff Vabbè Che c'è scritto Possiamo andare un po' più veloci Pronto? Se una televisione a tubo catodico Non costasse uno stipendio A questo punto Gli sparerei Anzi forse sarebbe meglio dire Se una televisione a tubo catodico Non fosse effettivamente Ricoperta da un pexiglass A quest'ora gli sparerei Se lo facessi Se lo facessi Il proiettile mi rimbalzerebbe contro La televisione a tubo catodico Ragazzi erano indistruttibili Allora abbiamo l'ultima porta Che è questa qui Oh Cristo No 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 Ok vai veloce Oh come un cerotto Via A strappo And their innocent stuff They are contaminating the minds And their drastic They are coming Ok ok Ci sono sono qui Uno 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 Due Due Quanti periti li ho? Due colpi Due colpi bastano 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 Ok vai in salotto Corri in salotto Visto 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 Ok 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 Ma quanti colpi ho? Ma non vedo un cazzo Non vedo Ho vinto Che cazzo succede? Che è? Non capisco Cosa sei? Non sono stato io Vero? Come faccio a farla smettere? Ma questo è un fantasma? Ehi È tutto ok È tutto ok È tutto ok Sei finta Sei solo pixel Non provi emozioni in realtà Sei stata programmata Per soffrire Per tutta la vita Bello come gli stia passando attraverso Per vedere se ci sono dei dettagli nella stanza che non riesco a notare Vabbè Io proseguo Buono E basta Non ti girare? Ma che cazzo? Cosa sta accadendo a questo gioco? Mancano quattro minuti e poi questo incubo è finito Dai che vado avanti così Ce la posso fare Devi solo resistere Brian Carrington A county police lieutenant In the main suspect in the complicity in the kidnap of Alice Connors Perfetto Quindi il poliziotto ha rubato Brian Carrington No scusatemi Ha rubato Alice Connors And the murder of this parent's partner in the service Quindi l'abbiamo ucciso noi Siamo noi Brian Carrington A questo punto io non so più che After the raid of the source of the Carrington family Lucy Carrington Beh la storia è abbastanza classica diciamo After conducting the domination of the police Children abducted in 1969 In the end result Bene The father of the Carrington family is entourage Brian Carrington said Put the feather I wanted Dislocation of the little Alice is also unknown Continua vediamo un po' se abbiamo altro da narrare Ma non è finito Non può essere finito Tratto da una storia verosimile Thanks for playing vuol dire carri armati per gioco Thanks carri armati for playing carri armati per gioco Unspoken L'idea è di Igor Nikiti Nikitin Il creatore è Igor Nikitin Diretto da Igor Nikitin Prodotto da Hideo Kojima Scritto da Igor Nikitin E project manager Igor Nikitin Ora sincera artista Igor Nikitin Environment Ma adesso Era necessario Fare sta cosa Scrivi Igor Nikitin Ha fatto tutto Alfa test Non c'è Igor Nikitin Tra gli alfa testi Deve esserci perché Allora ha provato il suo gioco no? No? Ma è malsana questa cosa Arsium Babuk Il nostro paese è un paese triste perché non ci sono nomi del genere Alexander Zuev Alexander Zuev Ah Un po' egocentrico Nikitin Ariel engine Allora ragazzi devo essere sincero secondo me è stato un gioco carino Carino Vedrò Vedrò Aspetto con piacere un prossimo episodio Un nuovo gioco sviluppato da questo ragazzo Da questo Nikitin che ormai ci è rimasto nel cuore Certo Ora È anche un gioco che costa 3 euro eh Cioè costa letteralmente 3 euro Mi ha fatto paura Ci sono dei momenti di tensione fatti molto bene La storia mi ha fatto cacare perché è una delle più classiche sinceramente Masti cazzi Allora adesso ci rilassiamo Voi di TikTok se volete venite qua su Twitch Parliamo e casteggiamo come al solito Vi ricordo che Lunedì non solo continuiamo la Horror Night Ma facciamo eh Ci sarà anche l'anteprima della seconda puntata dei Ghost Fuckers Se non sapete cosa sono i Ghost Fuckers Andate su YouTube per l'amor del cielo Andate a recuperarvi la puntata che è uscita La prima puntata dei Ghost Fuckers Dove io eh Il buon Double A e il nostro Daxin Esploriamo eh Dal vivo le le oscurità di questo luogo E sostanzialmente cerchiamo di esorcizzare il male eh All'interno di queste di questa struttura di questo laboratorio Dove facevano espedimenti farmaceutici particolari Quindi andate a vedere E niente ragazzi Come al solito Grazie per aver partecipato Grazie per essere qui Ehm Intanto fatemi Terminare qui sta roba A posto Fatto Oh adesso me ne lavo le mani Buono E anche TikTok è andata Ah Seriamente ragazzi Cosa ne pensate voi di quelli di TikTok? Non mi piacciono Oh 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 Finalmente Massa di sfigati Pesante Penso che sono NPC NPC Ci sta Allora Vediamo insieme questo giochino Che si chiama Jotun Slayer Jotun Slayer Perdonatemi Or Holders of Hell Ehm Quindi praticamente il L'Uccisore di Giganti Mentre che Jean Paul Gautier Ci fa vedere l'ennesima pubblicità Dove un Meraviglioso ragazzo Pugile con lo smalto e il rossetto Colpisce una donna Facendo vibrare la Torre Eiffel Che crolla su se stessa È una pubblicità di profumi ragazzi Il senso ce l'ha fino a un certo punto Guardiamo 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 questo questo meraviglioso video Fa schifo Con la tal harpa di sfondo The Northwood Vabbè e insomma Ma fa cacare ma tantissimo proprio Ah ho capito com'è E' come Com'è che si chiama quel gioco lì Dei vampiri Fatto dall'italiano Per mobile Che era fighissimo No non è Diablo Ehm Riprende da quello lì E' Vampire Survival Esatto Andrea E' Vampire Survival E' uguale i denti E' un Vampire Survival Però nella mitologia Con la mitologia non rena Sì sì Mi piace postare Sono tante Ambientazioni Free Yourself Vabbè ragazzi non lo giocherò mai Però potrebbe essere magari Qualche giochino Un giochino carino Così un gioco d'accesso carino Che potrebbe interessare Ah Poi vediamo se Ma io ho visto che c'erano un sacco Di titoli nuovi che stavano uscendo IGN ha fatto Mi ha cicciato fuori un bel po' di Di trailer Però volevo vederli Perché c'era Ehm Aspetta eh Soul Slinger no Rivals no Questo è un film Questo è un film Non ce ne frega un cazzo Vi faccio vedere anche a voi eh Bad Beach ho letto Invece Bad Batch Stellar Blade Buono X-Men Di Stellar Blade Che c'è da guardare ragazzi E voglio dire E' sempre la stessa Ah Pulse Eccolo qua Prossimo gioco che porteremo eh In live eh Riguardante le backrooms O meglio Le piscine Che è uno dei livelli delle backrooms Eh dovrebbe uscire tra l'altro il 22 aprile Quindi ci siamo Probabilmente settimana prossima ragazzi No se no la prossima settimana ancora Tra l'altro ragazzi eh no Settimana prossima siateci Perché dobbiamo giocare a ehm A non rest for the wicked eh che esce Dovrebbe uscire il 18 Boh Non lo so non ne ho idea Guardiamo Piscine Pulse Sapete cosa mi ricorda? Subliminal Haha Gioco che non vedremo mai Magari questo è il vero subliminal Subliminal Dino prova a non ridere Siete sicuri? Io sono un mago in quel gioco eh Se volete facciamo una prova a non ridere Dino porterei mai GTA? Si quando esce si Facciamo un day one Non so se ci faccio una serie Dipende da quanto è bello Però i personaggi sinceramente Mi attirino eh Ah Allora visto così sembra un gioco di merda Con una bella grafica Un gioco bagnato E beh Si ma mi devi dare Che sto respiro? Ah così A secco Senza acqua? Scendi e ti ritrovi le vesciche sul culo Madonna sembra un render 3D Dei primi cosi di Di Unreal Engine Delle prime schede di video invidia Ma perché sta cagata? Non c'è nulla in sto giorno Gameplay trailer? Ma capito ma porca troia Ma... Fammi vedere cosa cazzo succede Ah ecco questa roba malata mi piace E quindi? Ah Vabbè qui abbiamo preso un po' Dall'altro gioco che non mi ricordo come cazzo si chiama Coming to Steam Venuta a vapore il 24 Fa cacare A me ispira Allora a me ispira tutto ciò che è Backrooms Però fino a una certa ragazzi Ci stanno cavalcando un po' troppo Era un po' come quando Appunto la questione dei vichinghi Era partita Il concetto non reno La moda non reno Stavano uscendo un sacco di giochi su quello E a un certo punto Ha calcato la mano Ha rotto un po' i coglioni Sono diventati abbastanza noiosi Dal mio punto di vista Più che altro perché era tutto un copia e incolla E prodotti di qualità Sembra Basti solo fare Di per sé L'ambientazione Ma non il gioco vero e proprio La grafica è bella Sì però ragazzi C'è capito ma Piastrelle Acqua Una turca Francamente Ma guardiamo insieme questo Mia madre Spainaci Spainaci Ah ma siamo proprio un topo quindi C'è ma è la coda Questo mi garba L'unica roba che mi fa un po' che mi stranisce un po' è sta cosa di mischiare il 3D al 2D Maus Wishlist on Steam Quando è che esce Non lo sapremo Mai Mai E sti cazzi E sti cazzi Che ricalca Tecnicamente Graficamente La stessa roba Solo che non è in bianco e nero O seppiato più che altro Figo però Carino A fretta sarebbe sta roba cos'è? Ma è veramente Bendy Nick Machine cazzo Se andiamo avanti per favore Ma è sul serio Bendy Nick Machine? Bene Mi sto disensibilizzando agli horror Che cazzo è? Ma cos'è? Scusa non sto capendo cos'è Ma cos'è successo? Ah è una chitarra che ha paura della musica in digitale su videocassetta Non lo giocheremo Non lo giocheremo perché mi apprezzo Vabbè Vabbè Intanto mettiamo un po' di musica Ma Dino Ma che ho fatto? Non ho parole Perfetto Dino prova a non ridere please Ma sarebbe carino se mi linkaste voi qualcosa su telegram Di prova a non ridere Perché quello che cerco io non è bello A meno che basta che scrivo Try not love Si dai Try not to relax Bene Ma no Era una farfallina cazzo Stavo per uccidere una creatura Tranquilla Lazare te l'hai abbandonato? No Lo portiamo la settimana prossima Dino a te piace la pesca? Si mi piace Mi piace molto Trovo molto rilassante la pesca Tra l'altro La pesca Proprio a ciondoloni Con le palle in acqua Ma intendi il frutto O l'azione della pesca? Adesso ho un dubbio Oddio Pescare mangiando una pesca Deve essere Definitivo Non ho i pesci Ah la pesca l'adoro Le zanzare già rompono Sì però questa qua è una farfallina Io l'ho quasi uccisa Allora Proviamo questo Extreme try not loud challenge extreme Vediamo se effettivamente ci c'è fuori qualcosa di incredibile Oppure no Nel mentre però perdonatemi Perché vi è una pubblicità Afk journey Cos'è? Questa roba Un grido di agonia Non sto capendo E' bellissimo sto trailer cos'è? E' un trailer o? Non ti sembra grandioso Oddio paura Cosa sei? E' una serie tv Ma hai rotto i coglioni Il dolore del mondo Il dolore del mondo Salto Spavento E' un nuovo gioco mobile A 3 2 1 Partiamo Non vi garantisco niente Ma sappiate che ormai Io ho armonizzato il mio diaframma In modo tale Che non possa più provare emozioni O meglio Come dire E' esterniare emozioni Come la felicità O la paura Infatti lo sapete Come vedete Sono impassibile Durante le horror night Perché ormai il mio diaframma E' talmente flessibile Che ad ogni respiro Ad ogni respiro Ad ogni respiro Ogni getto d'aria Che fuoriesce Dalle Dai miei polmoni Addirittura le corde vocali Sono immobili Proprio una cosa incredibile Via Partiamo Non rido In questi casi qua Non rido Neanche se lo vedessi Una scena del genere Neanche se ce l'avessi davanti Ehm Perché probabilmente Lo picchierei successivamente Aaaaaah Ma quello era bullismo E' stato bullismo Bullismo a video Aspetta che è sparita No ma non sto ridendo ragazzi Avevo qualcosa nel naso E stavo cercando di espellere Questo è esploso Madonna che stile la signora Basta? Ma cosa ho fatto Per meritarmi una roba di giro? Ma come cazzo si fa ridere queste porcata qui? Perdonami Ma veramente C'è Nel 2024 ancora far la battuta Eminem e l'M&M Ma veramente Ma che cazzo Ma chi è che ha messo sto video? Ma porca troia Ma porca troia Scusate ragazzi Mi ero commosso Che brutta scena Che brutta scena Incredibile Ehm Ehm ma cambia lavoro porca troia In bilico per tutta la vita Ehm No questo non riesco Mi viene da ridere Tanto è esattamente Cioè capite che Non so se state notando Ghostfuckers Avevo lo stesso esatto settaggio Mi assomiglia un po' Allora aspetta Facciamo una roba Scusatemi un attimo Facciamo così Perché sennò Ehm è un po' un macello Molto meglio Molto meglio Varning La gente non sa muoversi però Che c'entra là? Fratelli dislessici in tutto il mondo C'è sentita C'è sentita la risata Ha detto la parola con la Henn C'è sentita la risata Quella proprio da caffetti Da da Che dì Queste sono quelle cose Che si potevano fare Nei cari bei vecchi tempi Adesso non si può più Un peccato Ma che sta succedendo? La ragazza stava cercando Di mollare lo streamer E giustamente lui che ha fatto Si è messo a ballare E ha iniziato ad applaudire col culo Mi sta svuotando il cervello Ma davvero non dimenticare E' un po' più grande 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 Va bene Oh Il Giappone Beh ma siamo dei livelli Ma porco tu Ma sei Ma Aveva fatto tutto giusto Che sta succedendo? Non sto capendo Che sta succedendo? E quindi? Ma com'è Black Dick? Ma cosa c'era scritto Sulle magliette? Ma scusate Ma scusate Basta con sta cosa delle maglie Eh ma Dax Ma questo era da fare però Wow E' perfetto That's crazy What the fuck did you say On Walter Black? Ma incredibile Sono le frasi che dico io Mentre giochiamo E' allucinante La La forma Viene premuta Nello Nella stampa Che fa la forma Per dargli la forma corretta C'è è meraviglioso That presses the shape into a pressed shape Over to Lauren Back to Tanya Not even fucking TATANYA Close What a disaster And now she's having a panic attack I think she's throwing up gang sign Ah l'uomo quando compie 30 anni i capelli se ne vanno E' già successo Um L'uomo quando compie 30 anni i capelli C'è un po' l'uomo? C'è un po' l'uomo? Ma è un martello che sto usando Questo è un video del cartello Non so se state notando che è sangue questo che c'è per terra Non è Che è? Ah che male No fermi che succede? Attenzione C'è una piccola pubblicità Un piccolo stacco pubblicitario Scusatemi un secondo Eccoci qua Bene ritorniamo Ritorniamo a noi Vabbè non c'era bisogno di mandare indietro c'è un gatto che guarda lo schermo e la gente dovrebbe ridere Poi abbiamo my first time in Japan La prima volta in Giappone Che senso? E' una mucca che... Ma è tutto errato è tutto errato Però dammi anche il tempo di capire perché non sono più giovine come un tempo Ho bisogno un attimino almeno due frame per capire l'immagine Che è successo? Ah il gelato è uscito fuori dal cono Eh ma minchia però eh Le rifatti rimborsare il volo Torna indietro Che se vuoi dire? Ma come si sono rotte quelle porte? Questa è l'ultima volta che ho comprato un gatto da Temu Ma bellissimo Ma sai che piacevolezza in bocca? I bet I can take those kids Eh? La fine è una porco due ma il cervello morto popiolina piatta Ma fammi ridere Dottore hai la demenza Ma non sto ridendo ma son quattro minuti e mezzo che sembra che sia passate tre ore Finalmente un qualcosa di interessante Finalmente ci stiamo avvicinando leggermente al sorriso Eh ehm Jingle, jangle, jangle Jingle, jangle Cause I don't ride in parallel Fatti male Fatti male Vabbè vabbè Ho fatto tutto da solo Ma che sta, che sto, che sta accadendo? Ma cosa sta succedendo? I veri uomini non guardano la propria ragazza a pagare Ma se hai undici anni di obb... Andiamo avanti Che schifo Che schifo Che stai facendo? Che stai facendo? Che stai facendo? Che stai facendo? Sì Un'altra Non è tutto completo a sto punto Cioè anziché dire no o fermati alla bambina che si sta in questo preciso istante sta divorando una lampada Cosa avrebbe voluto? Io voglio sapere qual è il video adesso Non lo sapremo mai Che cazzo è successo? Non ho visto Stavo guardando lo schermo Il secondo schermo No, è che non stavo ridendo ragazzi Ma che succede? Ma cos'è? Normalissimo jumpscare cop tv Ma che non puoi non ridere se ce l'hai problema Il suono reale dei ciclisti Hanno le ossa cave come gli uccelli No, siamo andati a Disneyland tomorrow Quanti soldi abbiamo? Incredibile il bambino è già un padre Il figlio di che padre ormai Ma no Era parlato You motherfucker Bella natura Guardate come si riprende ciò che è suo Eh? Il razzismo ha detto Non siamo i tuppi perché se lo blocchiò Cazzo accade Il sicko è portato a essere un bambino E crede che sta cercando di sbagliare con un altro bambino Quindi siamo andati a sbagliare qui E magari questionare il suo comportamento Bene Scusate Ma scusatemi un attimo Un secondo Ma la telecamera dove l'hanno piazzata? Sul tetto? O sono alti quanto una mattonella questi? E sai cosa? Ora ti pagherai, figlio Ah è diventata meme questa signora Ma guarda come se ne va a fiera Se ne fa Ah le vertigini sono una cosa orrenda Ti prego calcia quella scala Magnitudo Che succede? Ah perfetto Mio figlio che esce fuori dal Parabrezzo dopo che ho detto che mettersi le cinture è per ragazze Ma che succede? Ma che succede? Volevo Blà 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 Che villains... Madonna saya Ragazzi io non so più cosa dire è allucinante tutto ciò quanto tempo è passato sono 24 minuti che mi state facendo fare sta roba la mia anima non ha più non ha più un senso la mia testa non segue più il corpo sto facendo movimenti che io in realtà non sto pensando di fare questo gesto che sto facendo non lo sto scegliendo io di fare e probabilmente non c'entrerà poi più nulla con il discorso e con la frase completa troppo poco c'è un... cos'è? ah è uno scarafaggio quanto godo quanto godo io credo che qui siamo davanti a quello che è un vecchio filmino pornografico che farlo iniziare così è semplicemente geniale ma che è? eh sì non ho capito nulla da quello che ho appena visto e da quello che ho appena capito un bambino è stato cacato dal cielo non ho capito niente dell'immagine pensavo di stare male non sento più la punta delle dita cosa sta... cosa cazzo appena visto il mio cervello non è riuscito ad elaborare le immagini chiedo umilmente perdono non stavo ridendo per... per la scena ma per... oh 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 ou che ha deciso di fingersi gay per rimorchiare delle ragazze ha forse tralasciato un piccolo dettaglio in questa narrazione non ha forse intuito qualcosa che è gay che se non sei gay non ti fingi gay e con questa meravigliosa morale ragazzi io vi saluto ci vediamo direttamente lunedì alle 21 e 30 mi raccomando siateci perché ci sarà ovviamente i ghost fuckers e niente ragazzi ci saranno i ghost fuckers e ci sarà poi l'horror night e io penso che mai più farò un try not love mi dispiace ragazzi non riesco proprio delle volte mi facevano ridere però è raro trovatemi dei video allora buttatemi roba su te voi sub parte l'hashtag try not love troppo lunga l'hashtag che cazzo ne so che cazzo l'hashtag che cazzo ne so perfetto andate su telegram e taggate tutti i cazzo di video try not love che abbia che facciano ridere però perché devono fare ridere perché se sono sta roba non va bene no 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 l'hashtag video non va bene l'ho detto eh l'ho detto che facciano ridere ridi ecco l'hashtag ridi ci sta hai visto che ho fatto la mia prima sub stanotte no indovina chi grazie mille bestiaccia l'ho detto malhalla un piacere incredibile ah eccoti là 14 minuti fa sei diventato papà troverai biglietti per il messico del parrucchiere dove hai tagliato i capelli l'ultima volta mattex miglia grazie mille è una e tu è tratto da una storia vera tutto quello che hai scritto bestiaccia facciamo una roba dai ci vediamo direttamente lunedì la chiudo qui anche perché domani dovrò mettermi ad editare per portarvi la seconda puntata dei ghost fuckers che spero vi piacerà non vi faccio vedere nulla vorrei farvi vedere un'anticipazione però è ancora tutto quanto un cantiere se l'ha aperto quindi non voglio fare figure di merda bestiaccia dai ci vediamo direttamente lunedì fate una buona notte spero vi siete divertiti mi raccomando digerite bevete in maniera moderata intendo l'acqua l'acqua non bisogna bere più di 250 ml al giorno non bevete più di un bicchier d'acqua al giorno ragazzi non fatelo perché fa malissimo pensate il 100% della gente che beve muore ci vediamo domani bestiaccia buonanotte buonanotte buonanotte